All'interno del nostro programma di storia abbiamo analizzato la caduta dell'impero romano d'Occidente. Una delle cause che ha provocato la caduta di questo sistema milenario è stata l'invasione da parte di popolazioni cosiddette barbariche. Le popolazioni germaniche che venivano dall'Europa nord-orientale e che si riversarono in massa, spinti a loro volta dall'invasione di un'altra popolazione noma degli Unni, si riversarono in massa a partire dalla metà del III secolo nell'impero romano, distruggendolo. Partendo da questo spunto, nell'ambito della programmazione ed educazione civica vorrei fare una piccola storia delle migrazioni e delle invasioni da parte di popoli stranieri per arrivare al fenomeno migratorio che ci interessa più vicino, ossia il fenomeno migratorio proveniente dall'Asia e dall'Africa che investe i nostri paesi europei. Dopo le invasioni barbariche che determinarono lo stanziamento nell'impero romano dei diversi popoli germanici, si ebbe un altro grande spostamento di popoli a partire dal 750 d.C. con la nascita della religione islamica, dopo la morte di Maometto, si verificò un'espansione dell'impero arabo sia verso l'Oriente, quindi verso la Persia, verso l'Iraq, verso l'Iran, ma si arrivò anche all'India e ad alcune regioni della Cina, sia verso l'Occidente. Se andiamo un po' più avanti, nel 1279 l'impero mongolo di Gengis Khan si estendeva dall'Oceano Pacifico fino al Mar Mediterraneo, investendo diversi territori dell'Asia, ma anche una parte dell'Europa. Ancora nel XVI secolo, con la scoperta dell'America, avvenuta nel 1492, si verificò l'espansione dell'impero spagnolo nei nuovi continenti, cioè Nord America e Sud America. Anche in questo caso ci fu una repressione delle popolazioni indigeno originarie, quindi anche in questo caso la migrazione di popolazioni non fu indolore. Così come la formazione dell'impero britannico che nel 1900 possedeva territori in tutti i continenti, dall'Australia, con Australia e Nuova Zelanda, all'Asia, con il subcontinente indiano e alcuni paesi dell'Arabia Saudita e del Medio Oriente, all'Africa, dove l'Inghilterra possedeva diverse colonie, al Nord America e al Centro America, dove l'Inghilterra possedeva qualche arcipelago. Successivamente anche noi italiani siamo stati investiti da un fenomeno migratorio, questa volta in uscita, a seguito della crisi economica avvenuta tra la metà dell'Ottocento e i primi del Novecento, pensate che circa 9 milioni di italiani emigrarono verso il Nuovo Mondo, soprattutto verso gli Stati Uniti d'America, ma anche verso il Sud America, l'Australia e il Nord Europa. Questa cifra è ancora più impressionante se si pensa che all'epoca la popolazione italiana oscillava tra i 15 e i 20 milioni di abitanti, quindi circa metà della popolazione italiana espatriò. Come vedete dalla vignetta qui in alto, non è che la nostra migrazione fosse tanto ben vista nei popoli di arrivi. Vedete qui gli italiani raffigurati come dei ratti, che vengono scaricati da una nave per il trasporto dell'immondizia, e che contaminano il continente americano con la mafia, il socialismo, la violenza. I nostri connazionali, dopo aver fatto una traversata di mesi su transatlantici, sull'oceano Atlantico, venivano tenuti in quarantena in un'isoletta vicino a New York, per controllare che non fossero infestati di parassiti o di malattie epidemiche, come il tifo e il colera, che in America erano praticamente estinte. Dopodiché venivano alloggiati in alloggi di fortuna e facevano i lavori più umili, inseguendo il cosiddetto sogno americano, che almeno nei primi periodi fu notevolmente ostacolato dagli americani. Ecco, questo discorso è fondamentale per capire il nostro rapporto con le nuove emigrazioni. Vedete, in questa cartina del mondo, in violetto sono evidenziati i paesi che sono interessati da una forte emigrazione economica, e quindi vedete il subcontinente indiano e l'Indonesia, i cui movimenti migratori si muovono sia verso l'Australia, ma anche verso l'Europa, segnatamente riguardo all'area indiana, lo spostamento avviene verso l'Inghilterra. Infatti l'India era una ex colonia inglese e quindi ancora la seconda lingua indiana è l'inglese, e quindi per ragioni di comodità, di praticità, di conoscenza della lingua, questo tipo di migrazione si dirige verso la Gran Bretagna o comunque verso i paesi anglofoni. Lo stesso avviene per il Nord Africa, per il Maghreb, cioè Marocco, Tunisia, Algeria, dove gli emigranti si rivolgono massimamente verso la Francia, essendo, infatti, essendo ex colonie francesi, hanno ancora il francese come seconda lingua e hanno minor problemi di integrazione grazie alla conoscenza della lingua. Ciò avviene anche per alcune ex colonie francesi dell'Africa occidentale. mentre i paesi del Sud America e del Centro America ovviamente rivolgono la loro emigrazione soprattutto verso gli Stati Uniti. Quando parliamo di migrazione ci viene in mente l'immagine dei barconi che solcano il Mediterraneo o l'immagine delle rotta terrestre che attraversa la Turchia per passare poi per i Balcani e cercando di arrivare in Germania o in Italia. Quindi delle immagini veramente sconcertanti di masse di popolazione. Vediamo ora quali sono i motivi per cui la gente migra. Ci sono diverse categorie di migranti. Abbiamo i lavoratori migranti, ossia coloro che emigrano per periodi di tempo limitati. Può essere per esempio coincidente con una stagione turistica estiva o invernale. Può essere coincidente con la raccolta di alcuni frutti stagionali. Questi vengono definiti dalle Nazioni Unite, dall'ONU, che è l'organismo internazionale che si occupa della protezione dei migranti, vengono definiti migrant workers, cioè lavoratori migranti. Il loro flusso è di solito facilmente regolato da un sistema di visti e di permessi, anche se in alcuni paesi come l'Italia, questo flusso di lavoratori migranti è un po' nelle mani delle organizzazioni malavitose. Pensiamo alla raccolta dei pomodori o dell'anguria in Puglia, per esempio. Poi abbiamo i migranti permanenti. Questi migranti permanenti cercano di emigrare in maniera definitiva, volendo stabilire la loro residenza in un paese diverso da quello da cui provengono. È più difficile stabilire quanti sono questi migranti permanenti, in quali condizioni arrivano, e stabilire un tempo preciso di accoglienza di questo tipo di migranti, perché spesso praticano delle rotte clandestine, quindi arrivano in maniera clandestina nei paesi di origine, quindi sono difficilmente controllabili, arrivano senza un lavoro già in tasca, quindi sono difficilmente anche collocabili dal punto di vista lavorativo. Tra questi migranti permanenti si distinguono i migranti economici, ossia dei migranti che provengono da paesi in cui si è verificata una forte crescita demografica, ossia un grande aumento della popolazione, ma una crescita economica insufficiente. Quindi, per esempio, immaginiamo grandi famiglie con un numero di figli superiore a 5 che non riescono con gli umili lavori che trovano nei loro paesi a mantenere queste grandi famiglie, quindi si rivolgono all'estero. Sempre migranti permanenti appartengono ai rifugiati politici. Questa categoria di migranti ha una speciale protezione da parte delle Nazioni Unite, questa protezione viene detto asilo politico. Essi fuggono da conflitti, cioè da guerre, da persecuzioni etniche o da dittature in atti nei loro paesi e quindi hanno il diritto ad essere protetti. Quando i migranti arrivano nei nostri paesi, arrivano in Occidente, si pone il problema di conciliare la migrazione con l'integrazione. Infatti, i migranti che arrivano nei nostri paesi occidentali avvengono da luoghi diversi per storia, religione, abitudine e tradizione dai nostri. Quindi, in più, molto spesso, devono apprendere una nuova lingua, delle nuove abitudini di vita che sono diverse da quelle dei loro paesi. Vi faccio un esempio. Nelle strade dell'Africa, del centro Africa, i bambini, i ragazzini, giocano tranquillamente per strada, fuori di casa, perché nel tessuto dei villaggi africani i figli sono figli di tutti. Quindi, un bambino che gioca per strada non può incappare in nessun problema, non gli può succedere niente. Questa cosa è un po' più difficile nelle nostre società. Quindi, il fatto che spesso si vedano dei figli di migrati che girano per strada è proprio perché questo fa parte delle loro tradizioni, non perché abbiano voglia di stare per strada a dare fastidio a qualcuno. però, effettivamente, sia da una parte, cioè sia da coloro che arriva, e sia da parte di coloro che riceve i migranti, è necessario uno sforzo di comprensione da parte loro di capire il nuovo mondo in cui sono arrivati, e da parte nostra di capire che queste persone hanno delle storie e delle tradizioni diverse e quindi sono più suscettibili rispetto ad alcuni argomenti, per non incappare in problemi di razzismo o discriminazione. In più, dobbiamo considerare che nella nostra società, che è una società che invecchia sempre di più, l'affluenza degli immigrati è una cosa vitale per pagare le spese sanitarie delle persone e le pensioni dei nostri anziani e per poter permettere di aumentare la nostra popolazione, in cui ormai il tasso di fertilità di figli per donna, cioè, è sceso al di sotto della naturale quota di rigenerazione, cioè due figli per donna. Come avviene per l'ordinamento dell'ONU, cioè delle Nazioni Unite, anche la legge italiana all'interno della sua Costituzione, che è la legge fondamentale dello Stato, ha un articolo, l'articolo 10, che tutela gli stranieri, soprattutto coloro che hanno diritto d'asilo nel nostro paese. E recita così Lo straniero al quale si è impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Cioè, se uno fugge dalla guerra, se uno fugge dalla persecuzioni, per legge ha diritto di stare nel nostro paese, non perché gli facciamo un favore. Siamo obbligati ad ospitarlo. Bene, dopo tutte queste considerazioni, mi piacerebbe che voi svolgesse un elaborato scritto in cui esprimete semplicemente le vostre opinioni personali riguardo a questo argomento. Ne riparliamo in classe durante la seconda ora di Geografia. Arrivederci, ragazzi.